La stazione di Moggio Udinese è intervenuta tra le 12 e 30 alle 14 in Varresia tra la frazione di Laschiazze e Sella Carnizza per soccorrere un valligiano di 69 anni rimasto travolto e sepolto da una ceppaia mentre faceva lavori di taglio in bosco. I primi aiuti gli sono stati forniti dai familiari e da altri residenti per dissepellirlo, poi sono arrivati sul posto allertati dalla Sores, tre tecnici della stazione di Moggio, i vigili del fuoco, la guardia di finanza e l'elicottero del soccorso regionale. L'uomo è stato estratto dalla ceppaia scavando in profondità, valutato dal medico di bordo dell'elisoccorso e imbarellato per essere trasportato in un punto adeguato a recupero con l'elicottero e condotto d'urgenza all'ospedale di Udine dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Per fortuna non è in pericolo di vita.